La radio svizzera presenta Una missione ufficiosa per il commissario Maigret Dal romanzo Maigret et l'inspecteur qui a d'avre di Giorgio Simenon Traduzione e adattamento radiofonico in due parti di Enrico Colosimo Regia di Adalberto Andreani Prima parte Una missione ufficiosa se ho ben capito Proprio così ufficiosa e mi permetta di aggiungere amichevole le confesso che sono davvero spiacente di averla disturbata per un caso inadeguato alla sua fama caro commissario Maigret la prego e oltretutto perché non è una questione di servizio ma riguarda solo persone della mia famiglia più precisamente mia sorella Louise e suo marito Etienne Noh figlio del più prestigioso mercante di bestiame della Vandea negli anni 30 ora lei capisce la situazione sento ben è un piccolo piccolissimo paese lo vedrà anche lei si è lontani mille miglia da tutto la gelosia l'invidia la cattiveria sono gratuite mia sorella Louise ne risente e sono preoccupato non è stata mai ricostituzione forte è un tipo nervoso che dorme poco ed è sensibile alle minime contrarietà suo marito uomo eccellente e semplice è continuamente preso di mira quanto a mia nipote Genevieve che è anche la mia figlioccia è una fanciulla come quelle che oramai esistono soltanto nelle favole se accetta commissario chiederò per lei un permesso straordinario di una settimana e la riconoscenza di mia sorella e di mio cognato si unirà alla mia le ripeto sono a sua disposizione ma adesso permette signor giudice prego ecco adesso mi racconti i fatti in ordine e il più dettagliatamente possibili dunque a sento bene la casa dei Nus è vicinissima alla ferrovia che collega Nior a Fonte Nelle Conte circa tre settimane fa un giovane tale Albert Tagliot figlio unico di una vedova del paese è stato trovato morto sulla massicciata nel primo momento tutti hanno creduto a una disgrazia e personalmente lo credo ancora poi sono corse voci sono circolate lettere anonime per farla breve mio cognato si trova in una situazione spaventosa lo accusano quasi apertamente di aver ucciso quel ragazzo mi aveva scritto una lettera piuttosto vaga e io ho scritto a mia volta per avere informazioni al procuratore di Fonte Nelle Conte contrariamente a quanto mi aspettavo ho saputo che si tratta di accuse piuttosto serie per cui sarà difficile evitare l'apertura di un'inchiesta ecco perché caro commissario mi sono permesso di chiamarla a titolo di amicizia lo ripeto un momento un momento perché accusano suo cognato quali potrebbero essere secondo quelle voci le ragioni il movente il giovane trovato morto sulla massicciata sarebbe sì sarebbe stato come dire il ragazzo del cuore di Geneviève qualcuno ha insinuato pure che i due si incontrassero in segreto di notte addirittura capisco il fatto è che tutti in paese affermano che Albert Retagliò era troppo contento di vivere e non era così stupido da attraversare i binari nel momento in cui passava il treno c'è pure un altro particolare poco chiaro il berretto del Retagliò che è stato ritrovato il giorno dopo non so dove questo è tutto quello che posso dirle io assento ben avrà altre informazioni più precise bene d'accordo signor giudice mi faccia sapere l'ora della partenza commissario avvertirò mio cognato Etienne che l'aspetterà alla stazione guarda guarda chi c'è gesta il cavo ma che diavolo è venuto a farlo qui ehi cavo cavo il commissario Maigret immagino sono Etienne Noh mi scusi se non l'ho riconosciuta subito la sua fotografia è apparsa tante volte nei giornali ma in questo piccolo paese capisce bene arrivato buonasera signor Noh mi dia la valigia la prego ho qui la carrozza con questo tempo la strada è quasi impraticabile per le auto salga prego e tiri il mantice sulle gambe altrimenti si bagnerà le ginocchia andiamo contro vento mio cognato mi ha fatto una lunga telefonata a suo riguardo le assicuro mi dispiace che abbia disturbato un uomo come lei per una faccenda di così poca importanza c'è un albergo in paese no non parliamo di albergo a casa mia c'è tanto gusto la sua camera è già pronta abbiamo posticipato la cena di un'ora perché si è pensato che non avrebbe potuto mangiare in viaggio l'avverto subito che la nostra ospitalità è molto alla buona oh la ringrazio mi chiedevo se un altro viaggiatore proveniente da Paruto pezzo è sceso con lo stesso treno forse l'ha notato no non lo conosco volevo sapere se se troverà dove alloggiare non so come mio cognato le abbia descritto il paese da quando se n'è andato per stabilirsi a Parigi deve considerare sento ben come un villaggio insignificante ma un po' è conosciuto sa signor commissario lei non ha ancora visto niente perché siamo fuori dal centro dove esiste un piccolo ma comodo albergo il lion d'or tenuto da mamma tapenier con bar bigliardino e un'ottima cucina sa buonasera signori eccoci qua si accomodi la prego e si tolga il cappotto leontin porta sulla valigia del signor negretto va bene come vede non c'è poi molta strada dalla stazione già oh ecco louise cara ecco il commissario maigret mia moglie signora buonasera commissario sono spiacente che vittor che mio fratello l'abbia disturbata con un tempo simile poi o le presento un amico di casa signor commissario alban grucotel piacere molto piacere sono un suo grande ammiratore grazie il signor grucotel è venuto a cena da noi da buon vicino c'è sempre un posto in questa casa per un solitario come sono io spero che il viaggio non l'abbia stancata signor commissario oh no non eccessivamente e e Genevieve sa nostra figlia non sta molto bene da due o tre giorni e non sarà a tavola con noi anzi voglio scusarmi ora vado di sopra a chiederle se le occorre qualcosa o se vuole mangiare un boccone in camera sua prego prego desidera salire un momento nella sua camera signor commissario prima di mettersi a tavola beh la ringrazio se permettono vado a rinfrescarmi un po' la compagno da questa parte prego non ha bisogno di niente passando le farò vedere gli interruttori della luce e le indico il bagno è un peccato signor commissario che sia venuto nel nostro paese a stagione finita in piena estate la regione è così bella ah si si c'è chi la chiama la Venezia verde prende dell'altro gatto grazie basta così sono stato molto bene una cena eccellente mi congratulo signore ma che dice non ho fatto niente di straordinario so che ha una predilezione particolare per la sua pipa commissario però se gradisse un buon sigaro ho qui una scatola di avana si si in effetti preferisco la mia pipa ma non adesso prende il caffè di sera mai nemmeno una tisana per favorire il sonno nemmeno va bene così grazie grazie in quanto al sonno ma certo deve essere stanco del viaggio quando vuole coricarsi non faccio complimenti beh allora signori se permettono vado a dormire stiano pure comodi buonanotte buonanotte buon riposo anche lei dormiva qui al bain ah no non voglio che torni a casa stasera con questo tempaccio commissario dovevo parlarle mi scusi ma ma perché qui zitto non si faccia sentire ho solo due parole solo questo da dirle sono incinta di albertaio se mio padre lo viene a sapere nessuno mi impedirà di uccidermi di uccidermi di uccidermi oh commissario già in piedi buongiorno buongiorno signor No buongiorno signora Leontino ma si accomodi si accomodi grazie vede conservo le vecchie abitudini campagnole a qualunque ora vado a letto alle sei e mezzo del mattino sono sempre in piedi bene non ne offro una zuppa di latte orzo come la mia perché immagino preferisco il caffè o del cioccolato tutt'altro va bene come la sua Leontina hai sentito? prepara per il signor commissario si signore ha sentito subito dormito bene? benissimo grazie mi sono svegliato circa mezz'ora fa perché ho sentito scorrere l'acqua nel bagno al mattino ho sempre il sonno leggero oh mi dispiace forse ero io o forse sarà stato il nostro amico alba forse è simpatico vero? già è molto più colto di quanto voglia apparire ah incredibile la quantità di libri che riesce a leggere sa sempre tutto peccato non abbia avuto fortuna con la moglie ah è sposato? lo è stato e lo è ancora ha due figli un maschio e una femmina il maggiore deve avere 12 o 13 anni e la moglie non abita con lui? no vive sulla costa azzurra è una storia penosa sa a cui qui in paese non si fa mai allusione no eppure era di buonissima famiglia una de arm per poco si come il generale è suo nipote una donna un po' eccentrica incapace di capire che viveva sento bene e non a Parigi ci sono stati degli scandali ha approfittato di un inverno eccessivamente rigido per andare a stare a Nitz e non è più tornata vive là con i figli non vive sola naturalmente e il marito non ha chiesto il divorzio? è una cosa che qui non usa chi dai due è ricco? certamente lei è molto ricca ecco signore grazie leontine è fortunato il commissario ha smesso di piovere bene bene il mio cognato il giudice avrebbe dovuto consigliarle di portare un paio di stivali perché? siamo in piena palude qui pensi che per arrivare ad alcune mie fattorie d'inverno come d'estate devo usare la barca a proposito di mio cognato mi mette un po' in imbarazzo il fatto che abbia osato chiedere a un uomo come lei c'è poca gente che scende alla stazione di Sento Ben mi sembra che ieri ieri sera fossimo in due oltre a una vecchia contadina esatto l'uomo che è sceso dopo di me non lo conosce no non l'avevo mai visto prima mi domando che cosa è venuto a fare qui o meglio chi l'ha chiamato lei lo conosce è un poliziotto privato oh penso che alloggerà in quell'albergo di cui lei mi ha parlato ieri sera eh può informarsene può telefonare oppure andare di persona se vuole l'accompagnerò io in carrozzo o in auto la ringrazio la ringrazio ma di solito preferisco camminare e andare qua e là a caso desideravo chiederle notizie di sua figlia spero che non sia malata seriamente se vuole che le dica la verità credo sia malata quanto lo sono io oh purtroppo anche lei è al corrente di ciò che si mormore in paese ah capisco ce ne vieve orgogliosa tutte le ragazze lo sono credo sia il vero motivo di questa reclusione che si è imposta da tre giorni chissà che non si vergogni un po' anche di lei di me della sua presenza qui mi ascolti signor commissario eh sì ma non sarebbe meglio oh possiamo parlare in presenza di leontini mi ha conosciuto bambino è in casa nostra dal tempo della sua prima comunione signore ah però eh eh già un altro po' di latte e del caffè grazie vede commissario mi trovo in una situazione imbarazzante e a volte mi domando se Vittor non ha commesso un errore chiedendole di da quando vive a Parigi forse ha un po' dimenticato l'atmosfera della nostra provincia cerchi di capirmi capita che si facciano correre periodicamente delle voci sul tale o sul tal'altro ah certo questa volta l'accusa è grave eppure mi chiedo se non sia meglio considerarla con disprezzo immagino che interrogerà qualcuno dei paesani no in tal modo la loro fantasia si accenderà ancora di più ecco perché sinceramente mi domando se questo è il metodo giusto beh tra poco andrò a fare un giro alla fiera perché devo incontrare dei colleghi nelle mie fattorie lavoriamo per la latteria ma soprattutto ci occupiamo di vesti e di razza selezionata che per la maggior parte sono vendute all'estero lo sa ne ho mandate persino nell'America del sud commisario le ripeto sono a sua completa disposizione se ha bisogno di qualcosa se vuole farmi domande prima di andare in centro a parlare con altri non voglio esserle in nessun modo d'impaccio lei qui è a casa sua la ringrazio col suo permesso andrò a fare un giretto a piedi come le ho già detto preferisco andare qua e là a caso buongiorno che cosa prende? un bicchierino di liquore del posto non ne ho di liquori del posto allora mi dia un cognac senta signora qui da lei ha preso alloggio ieri sera un mio amico si chiama Justin Cabro non so se sia un suo amico ospito un solo viaggiatore che si è alzato adesso mi ha appena portato sul caffè è un gran ficanasus immagino le avrà fatto un mucchio di domande non ha fatto nessuna domanda perché come le ho detto si è appena svegliato si ferma qui per qualche giorno non gliel'ho chiesto ancora uno per favore è qui nel suo albergo che il giovane Albert Retaiot ha passato la sera precedente alla sua morte che gliene importa credo fosse un ragazzo rispettabile mi hanno detto che quella sera aveva giocato a carte è la Belotti il gioco di moda in paese è la Quenshi perciò quella sera ha giocato alla Quenshi con i suoi amici viveva con la madre bedova vero? una brava donna se non sbaglio come dice? io non dico niente ha parlato sempre lei non capisco dove vuole arrivare mi dica la signora Retaiot abita lontano da qui in fondo alla strada nella casa col cancello verde bene quanto le devo? cinque franchi crede che il giovanotto fosse ubriaco quella sera? non più ubriaco di lei che già alle otto del mattino si beve due cognac chi cosa desidera? sono stato incaricato di condurre un'inchiesta sulle voci che corrono a proposito della morte di suo figlio incaricato? da chi? sono il comissario Negri della polizia giudiziaria però l'inchiesta che conduco non è ufficiale che cosa vuol dire? che la giustizia non è stata informata del caso di quale caso? saprà signora che sono corse voci qui in paese su questo argomento non si può impedire che la gente parli suo figlio era fidanzato? non sa di nessuna relazione femminile magari nascosta Albert era troppo giovane per occuparsi delle donne era serio dopo la morte del padre non ha pensato ad altro che al suo lavoro e al suo avvenire ma ma lei signora che reazione ha avuto quando insomma cerchi di capire che cosa intendo dirle lei ha creduto a una disgrazia che altro dovevo credere? non ha avuto nessun dubbio nessun sospetto di che cosa? suo figlio non ne ha mai parlato non accadeva mai che tornasse a casa tardi la notte no mai secondo quanto mi è stato riferito il ragazzo lavorava come contabile nell'ufficio commerciale di un'azienda di Etienne No vero? era dipendente del signor Drouet che è il direttore amministrativo della latteria aveva le funzioni di vice direttore e il signor No dopo la disgrazia non è venuto a trovarla? non abbiamo niente in comune naturalmente ma avrebbe potuto in conclusione lei disapprova le voci che corrono non le ascolto non le voglio sapere se il signor No che la manda può anche ripetergli quello che le ho detto buongiorno commissario sono contento di incontrarla buongiorno signor Drouet per fortuna oggi non piove già e ho potuto avventurarmi in bicicletta è un vero peccato che non sia venuto qui col bel tempo quando il nostro paese è un po' più presentabile già è un vero peccato vuol farmi il piacere di prendere con me e un aperitivo grazie potremmo andare all'Osteria dei Tromil in fondo alla strada è un locale modesto ma si trova ancora qualche bottiglia di vecchio porto ma ringrazio sono spiacente di non poterla invitare a casa mia che è un po' distante da qui è a due passi dalla casa dei No a proposito che ne pensa dei miei amici una famiglia simpatica vero? certamente non c'è uomo migliore di Etienne forse è un tantino orgoglioso davvero? ma di un orgoglio così ingenuo così sincero è molto ricco sa? è quella adorabile signora Louise e poi non ha conosciuto ancora la signora Valentin la madre la madre? viene da una grande famiglia della Vandea pensi che non vuole essere di disturbo alla figlia e al genero e perciò vive da sola e alla bella età di 82 anni ha ancora buone gambe buoni occhi e una perfetta lucidità e Geneviève cosa può dirmi della signorina No a Trent? sì lo si può proprio dire penso avrò occasione di conoscerla presto poiché la sua indisposizione sarà passeggera ah certamente ecco siamo arrivati prego prego va bene il porto? va benissimo il solito Gerard e i due bicchieri volevo chiederle signor Gru lei conosceva quel retaiò? di vista sembra che sua madre sia una donna di carattere meritava una vita ben diversa da quella che ha avuto del resto era anche di buona famiglia ed è stata una sorpresa per tutti qui a Sentobene quando ha sposato un modesto operaio se si fermerà per qualche giorno le farò conoscere il paese perché ci sono persone davvero interessanti un mio zio che è stato ambasciatore a Lisbona amava ripetere che nelle campagne della nostra Vandea qua e là si incontrano figure straordinarie si si certo signor Gru ma ora la prego di scusarmi al mattino c'è sempre così poco tempo a disposizione la sua inchiesta è vero e mi dica andrà avanti ha delle speranze a mio giudizio sarebbe necessario mettere le mani sulla persona che è all'origine di tutte queste false voci lei ha un'idea? io no affatto mi raccomando non si mette in testa che io abbia la minima idea in proposito le consiglio invece di fare una visita al signor Leque il segretario comunale lui sa sempre tutto di tutti il municipio è a due passi da qui il signor Leque sono io desidera commissario Migret della polizia giudiziaria sono a Centobin in missione ufficiosa e vorrei alcune informazioni a sua disposizione lei conosceva certamente Albert Retaiu mi dica che cosa pensa di lui ma era un bravo ragazzo si 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 può dire che fosse un bravo ragazzo non gli si può rimproverare proprio niente correva dietro le donne beh aveva vent'anni i giovani hanno sempre i loro affari segreti ma non si può dire che corresse dietro alle donne per abitudine aveva una relazione con la signorina no? si diceva ci sono state voci ma sa le voci non sono che voci chi ha scoperto il cadavere? il capo stazione alle 8 del mattino ha telefonato in municipio e l'assessore ha telefonato subito alla gendarmeria di Benet perché a Santo Ben non c'è che cosa ha detto il medico che ha esaminato il corpo? il corpo per così dire non c'era più il corpo il treno c'era passato sopra però hanno riconosciuto Albert Retaio ah si si certamente oh non c'è dubbio che fosse Retaio a che ora è passato l'ultimo treno? alle 6 e 5 minuti del mattino e la gente non ha trovato strano che Retaio si trovasse sui binari della ferrovia alle 6 del mattino beh si certo sono corse voci e non si può impedire che le voci corrano dunque la sua opinione personale è che la morte sia stata pura fatalità è molto difficile avere un'opinione quando hanno trovato il berretto di Retaio? quando? ehm ecco ma l'hanno poi davvero trovato questo berretto? mi hanno assicurato che qualcuno l'ha riconosciuto qualcuno qualcuno qui in paese c'è sempre qualcuno che una volta dice bianco e un'altra volta dice nero ma il berretto è un oggetto che si può vedere che si può toccare eh diamine ma non so cosa dirle vede noi non siamo della polizia e ci occupiamo solo delle questioni di nostra competenza salve sono sempre io lo vedo cosa le servo? ancora cognac? no no mi dia un bicchiere di vino bianco grazie va bene dico un po' signora sono certo che lei potrebbe darmi delle informazioni più precise su quanto le ho chiesto questa mattina senta permetterebbe così alla giustizia di fare il suo corso giustizia per chi? e perché questo avvenga devo trovare due cose prima di tutto un amico un vero amico del povero alberrettaio un amico che possibilmente sia stato con lui l'ultima sera e capisce e poi ho bisogno di sapere tutto su quel berretto ritrovato lui viene un po' qui senti cosa dice a questo signore chi è che la manda? sono il commissario Migret della polizia giudiziaria perché è andato ospite in casa dei Nu? perché il signor Nu è stato avvertito del mio arrivo ed è venuto a prendermi alla stazione io non conosco il paese e lui mi ha invitato a casa sua chi è quell'uomo che alloggia in questo albergo? è venuto con lei? oh no è un poliziotto privato qualche anno fa era un ispettore della polizia giudiziaria si chiama Cavre i colleghi lo chiamavano Cadavre da tempo però è stato dimesso per irregolarità nel servizio so che ha aperto un'agenzia di investigazioni per chi lavora? oh non ho idea perché non hanno avviato una vera inchiesta? da tre settimane alberre è morto e nessuno finora beh senti ragazzo ora ora basta con le domande dovrei essere io a farle in ogni caso non c'è stata nessuna denuncia ufficiale hanno stabilito trattarsi di una disgrazia oh quando avrò raccolto elementi sufficienti l'inchiesta sarà più esplicita senta lei lei è in grado di dirmi con precisione a che ora quella sera il suo amico se n'è andato da questo bar più o meno alle 11 è a quell'ora che mamma tappenniechi del bar eravate in molti in quattro avevamo fatto una partita a quenshè siete usciti tutti insieme? due hanno preso a sinistra io ho accompagnato alber per un pezzo di strada in che direzione? in direzione della casa dei no le ha fatto delle confidenze? no non le ha detto che cosa andava a fare dai no no era furioso ah era furioso e contro chi? contro di lei lei? ah parla della signorina no le aveva parlato di lei prima? si che cosa le aveva detto? tutto e niente andava da lei quasi tutte le notti era innamorato e si vedeva non poteva nasconderlo e l'ultima volta dice era furioso si per tutta la sera giocando a carte si vedeva che pensava ad altro e guardava continuamente l'ora anche dopo per strada quando lo ha accompagnato fino a dove? a 300 metri dalla casa dei no più o meno e è sicuro che poi abbia continuato ad andare avanti? si mi ha detto quasi con le lacrime agli occhi stringendomi le mani è finita mio caro lui finito? che cosa era finito? tra lui e Genevieve così almeno ho capito io voleva dire forse che ci andava per l'ultima volta ma poi ci è andato davvero? c'era la luna quella sera l'ho potuto vedere fin quando era a pochi metri dalla casa e il berretto? ce l'ho io a casa mi aspetti qui vado a prenderlo ci metto un minuto abito qui accanto su beva un altro bicchiere offro io oh grazie che è? sa commissario può credere a quello che dice lui è schietto come loro quel ragazzo senta signora suppongo che si possa mangiare qui vero? certamente oggi abbiamo minestra di piselli con il guinumido insalata di barbabietole e poi del formaggio se ancora fame bene bene posso telefonare un momento la intanto prepari anche per lui aspetti le do la linea pronto? chi parla? sono Megre come dice? ah il signor Crocotel ma certo scusi non l'avevo capito senta per favore vuole dire alla signora No che non darò a corazione sì sì le faccio le mie scuse oh no niente importante no no non so ancora quando rientrerò grazie signor commissario signor commissario l'hanno rubato il barretto l'hanno rubato deve essere venuto qualcuno mentre mia madre era uscita per la spesa ma che può essere signor commissario non ci capisco più niente ora lei non mi crederà più però io le giuro sì 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 non agitarti mettiti a serena vai ci arrivo un boccone insieme nel frattempo mi racconterai signora quando è pronto può servirci per favore con due birre va bene la birra sì grazie adesso raccontami tutta la storia del barretto allora la stessa sera del funerale del povero Albert un vecchio ubriacone che si chiama Desiree è entrato qui ha gettato sul tavolo un barretto e ha chiesto di chi fosse io l'ho riconosciuto subito perché ero con Albert quando l'ha comprato a New York e abbiamo discusso insieme il colore Desiree aveva bevuto un po' come al solito c'erano almeno sei persone nel caffè io gli ho domandato dove avesse trovato il berretto deve sapere che Desiree ritira il latte nelle piccole fattorie del mare e siccome sarebbe impossibile andarci in camion fa il suo giro in barca l'ho trovato tra i cannetti mi ha risposto proprio a fianco del pioppo morto tutti qui in paese sappiamo che il pioppo morto si trova proprio tra la casa dei Nu e la massicciata della ferrovia cioè il posto dove poi è stato scoperto il corpo di Albert stritolato dal treno è il berretto di Albert e Taiou hanno detto da un tavolo vicino e Desiree per quanto fosse brillo si è accigliato ha capito che non avrebbe dovuto trovarlo nel punto in cui l'aveva trovato gli chiesi sei sicuro Desiree che fosse vicino al pioppo morto perché non dovrei esserne sicuro non so perché in quel momento mi è venuta l'idea di cacciarmi quel berretto in tasca forse prevedevo già che a qualcuno poteva interessare che non si parlasse più della faccenda bene signor commissario l'indomani Desiree non voleva più ricordare niente quando gli si chiedeva di precisare il punto rispondeva qua, là non so di preciso dove lasciatemi in pace con questo accidente di berretto è sempre la stessa storia quando si tratta di quelli là di chi? non so come spiegarle quelli là sono legati tra loro sono i ricchi sono i parenti o amici di uomini politici di prefetti di generali di magistrati capisce che cosa voglio dire? eh sì sì certo perciò la gente ha paura capita naturalmente di chiacchierare la sera quando si è bevuto un bicchiere di troppo ma il giorno dopo ci si pente quell'ubriacone di Desiree un tempo ha lavorato in casa di Etienne come cameriere benché l'abbiano messo alla porta ha mantenuto buoni rapporti con loro è un vecchio ipocrita un uomo che ci tiene a stare in pace con tutti ed ecco perché nei giorni seguenti quando gli hanno rivolto delle domande a proposito del berretto ha recitato la commedia non ricordo più dove l'ho raccolto non so nemmeno che fine abbia fatto e questo è vero perché l'avevo preso io signor commissario e posso affermare che c'erano macchie di sangue sul berretto come ho scritto al procuratore ah allora sei stato tu a scrivere le lettere da noi si per l'esattezza ne ho scritte tre se ce ne sono state delle altre non sono mie ho scritto a proposito del berretto e anche dei rapporti tra Genevieve Nuh e Albert no lo sai che non voglio prendere medicine bene mamma oh chiedo scusa per il disturbo pensavo che non ci fosse nessuno prego prego si accomodi signor McGree ecco mia figlia Genevieve ci teneva tanto a conoscerla che il suo malessere è quasi scomparso ne sono lieto come sta molto meglio grazie e mi permetta di presentarla a mia madre signora allora commissario ne ha abbastanza di mettere sotto sopra il nostro povero sento ben l'ho vista passare ripassare davanti a casa mia non so per quante volte questa mattina nel pomeriggio ho notato che aveva anche un accompagnatore sai Luis chi c'era insieme al commissario lui figlio il figlio di Pierre e sai era fatale il ragazzo deve avergli dato la caccia ma no signora si è limitato ad accompagnarmi da questa o quella persona che desideravo vedere e che senza di lui avrei trovato difficilmente e ne hanno certamente raccontato di belle vero commissario io che sono vecchia ho conosciuto molti casi simili vede tanti anni or sono qui a sento ben c'era una fabbrica di zoccoli che dava lavoro a una cinquantina di operai era un momento in cui scoppiavano continuamente scioperi in tutta la Francia e per un sì o per un no gli operai sfilavano in corteo un operaio della fabbrica di zoccoli si chiamava Pierre Figu non era un uomo cattivo però gli piaceva credersi un tribuno un giorno andò in casa del padrone per rivolgergli non so quale reclamo e pochi minuti dopo la porta si è aperta e si è visto Figu volare come lanciato da una catapulta all'indietro per molti metri e cadere nel canale oh perbacco era il padre del ragazzo che stava con me si era suo padre è morto adesso a quel tempo bisognava essere pro o contro Figu pro o contro il padrone da una parte si affermava che Figu si era comportato in maniera insensata costringendo il padrone a buttarlo fuori con violenza e dall'altra si diceva che il padrone invece aveva tutti i torti e aveva pronunciato parole odiose a proposito dei suoi operali Figu è morto ha detto? si due anni fa di un cancro allo stomaco aveva molti sostenitori all'epoca di cui parla non erano in gran numero ma erano i più accaniti e tutte le mattine qualcuno trovava sulla porta di casa frasi minacciose scritte con il gesso intendo dire signora che i due casi si assomigliano io non intendo dire niente commissario e beh che si sa piace fare chiacchiere inutili nei piccoli paesi c'è sempre un caso Figu o un caso Retejo senza il quale la vita sarebbe troppo monotona si? che cosa c'è Leontino? vorrei sapere se devo apparecchiare la tavola apparecchia pure mio marito non tarderà molto spero il signor alban viene a cena non ha ancora telefonato comunque prepara il suo posto va bene signora ora ragazzi miei devo andarmene no rimani con noi a cena mamma Etienne sarà qui a momenti poi ti accompagnerà a casa in macchina ma no figlia mia lo sai che prendo solo un po' di latte la sera e non ho bisogno di essere accompagnata non vuoi che faccia preparare la carrozza ci sarà tempo per farlo il giorno del mio funerale ma signora arrivederci commissario e se le capiterà ancora di passare sotto le mie finestre venga a salutarmi senz'altro buonasera Luiz ti accompagno buonasera 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 suo marito. Etienne, questa sera è un po' in ritardo perché ha dovuto andare a Fontenelle Conte. Mi ha telefonato poco fa per dirmi che si scusa con lei. No, non si preoccupi per me, signore. Anzi, in attesa, se non ha niente in contrario, vorrei fare quattro passi qui intorno e dare un'occhiata al cortile, all'esterno della casa. Prego, prego. Sai, io sono molto interessato alle belle residenze di campagna. Ieri sera, con quel brutto tempo, non si vedeva niente e questa mattina poi avevo fretta di andare in paese. Permette che l'accompagni. La sua stanza è quella proprio sopra di noi, vero? Sì, capisco che cosa vuole dire. Lui non entrava dalla porta, naturalmente. Venga, vede quella scala di legno. La lasciano sempre in quel posto. Doveva soltanto spostarla di qualche metro? Sì. Dov'è la stanza dei suoi genitori? Tre finestre più in là. E le altre due finestre? Una è la stanza degli ospiti, l'altra è la camera che non serve più, da quando la mia sorellina è morta. E soltanto mamma ne ha la chiave. I suoi genitori non hanno mai sospettato niente? No. La vostra relazione durava da molto tempo? Tre mesi e mezzo. E retta io? Conosceva le conseguenze sopravvenute? Sì. Che intenzioni aveva? Confessare tutto i miei genitori e sposarmi. Perché l'ultima sera era furioso? Eh? Le ho domandato... Ho sentito. E allora? Non capisco. Perché dice che era furioso? Non è successo niente di particolare tra di voi quella sera? No. Niente. Albert è uscito dalla finestra come sempre. Sì. L'ho visto allontanarsi verso l'estremità del cortile per scalvalcare il muricciolo e raggiungere la strada. Che ora era? Circa mezzanotte. Aveva l'abitudine di trattenersi con lei così poco? Che vuole dire? È arrivato dopo le undici. Immagino che di solito non se ne andasse così presto. Non avete litigato? Perché avremmo dovuto litigare? Non so. Glielo domando. No. Quando doveva parlare ai suoi genitori? Presto. Aspettavamo un'occasione. Senta. Cerchi di ricordare bene. È sicura di non avere visto nessuna luce in casa quella notte? Non ha sentito nessun rumore? Non ho visto niente. Forse non mi crede, ma è la pura verità. Mai, capisce, mai confesserei a mio padre quanto ho confessato a lei. Presto me ne andrò di casa. Partirò. Non so ancora che cosa farò, ma... Perché ha voluto parlarmi? Avevo paura. Immaginavo che avrebbe scoperto e detto tutto ai miei genitori. Beh, torniamo in casa. La cena sarà pronta. Non parlerà. Non parlerà a mio padre, vero? Ho fiducia in lei. Eh, quando hanno costruito questa casa, quasi un secolo fa, non si prevedeva che la strada ferrata sarebbe passata un giorno quasi sotto le nostre finestre. Ah, certo, ci si abitua. Soprattutto perché circolano pochissimi treni, cinque, in tutto il giorno. Questo è l'ultimo, proprio quello con cui è arrivato lei. Il prossimo è al mattino, alle sei e cinque. Ma... A che pensa, commissario? A niente, scusi. Mi capita qualche volta di distrarmi. Chiedo scusa. Ottima la sua torta di riso, signora. Grazie. Niente, fa più piacere una padrona di casa che il vedere apprezzata la sua cucina. Ah, commissario Megre, stamattina a Fontenay ho avuto occasione di incontrare il procuratore. Oh, in realtà Alma è quasi suo parente per il ramo femminile, credo, avendo sposato una de'arma di Cholet. I de'arma di Cholet non sono imparentati con la famiglia del generale. Sono orioni di Nant, ne sono certo. Ah, sì. Lo sa, signor commissario, il procuratore mi ha molto rassicurato. Certamente, come ha già risposto a Victor, al giudice Brejean, un'inchiesta sembra inevitabile, ma sarà un'inchiesta puramente formale, per quanto ci riguarda. Gli ho riferito che lei è qui. E che cosa le ha detto di me? L'ammira molto, ha sempre seguito nei giornali la maggior parte delle sue inchieste. E appunto perché l'ammira, si meraviglia che mio cognato abbia voluto disturbare un uomo come lei per un caso così banale. Capisco. E lei, signor Megre, adesso che ha visto un po' il paese e interrogato la gente, che ne pensa? Beh, so che ha conosciuto il figlio di Fiu, il giovane Louis. Sì, vogliamo andare a prendere il caffè in salotto? Servi tu il caffè, Genoviero, se non sei troppo stanca. Mi sembra pallida. Forse sarebbe meglio andarsi a curicarti. Ma no, mamma. Io chiedo scusa, desidererei ritirarmi presto stasera. Beh, rinuncio al caffè. È un'ottima decisione, sa. Da parte mia voglio fare un giro in paese di sera. Se non le dispiace, faremo la strada insieme per un po'. Signore Gruquotel. Just a ce point de rue E depuis j'ai beaucoup voyagé Trop souvent en pays étranger Monde neuf, construcció O démolition Vos me donnés Dévision Abbiamo trasmesso Una missione ufficiosa per il commissario Maigret Dal romanzo Maigret all'inspecteur cadavre Di Georges Simenon Traduzione e adattamento radiofonico in due parti Di Enrico Colosimo Personaggi e interpreti della prima parte Il giudice Victor Brejon Diego Gaffuri Il commissario Maigret Adalberto Andreani Etienne No Umberto Ceriani Louise No Flavia Soleri Leontine Gabriella Loi Alban Gruquotel Antonio Zanoletti Genevieve No Paola Rocholi Mamma Tappenier Pinuccia Galimberti La signora Retaio Relda Ridoni Il segretario Leque Nicola De Buono Louis Fillu Flavio Arras Valentin Brejon Giuliana Rivera Presa del suono Gianfranco Pongelli Editing e sonorizzazione Massimo Scampicchio Regia Adalberto Andreani La radio svizzera presenta Una missione ufficiosa Per il commissario Maigret Dal romanzo Maigret e l'inspecteur Chia d'Avra Di Giorgio Simenon Traduzione e adattamento radiofonico In due parti Di Enrico Colosimo Regia Di Adalberto Andreani Seconda parte Come le dicevo Signor commissario A quest'ora Sento ben È deserta Completamente deserta Anche quando Non c'è nebbia Né pioggia O vento E nel centro del paese Non circola anima viva Resta aperta Fin verso le dieci Solo l'osteria Dei Troamul Dove siamo stati Questa mattina E il bar Dell'albergo Che chiude un po' più tardi Credo Ecco perché la sera Io sono quasi Sempre dai miei amici No Che sono delle bravissime persone Ve lo lasci dire Una famiglia così unita Ma certo La vita di campagna Deve offrire ben poco Anche a loro È vero che il signore Etienne Ha il suo lavoro I suoi affari Ma le signore Ecco io mi domando Se una ragazza Come Genevieve Abbia qualche interesse Qui E come trascorre il suo tempo Ha molti amici Non so se ne abbia qui A parte le cugine di Fontenay Che vengono nella buona stagione E in casa delle quali Va ogni tanto A passare una settimana Immagino Andrà anche a Parigi Dai Bregion Il giudice è suo padrino Se ho ben capito È andata questa estate E lei Signora Alban Non si allontana mai Da Saint-Tobain Vado ogni tanto a Nantes Dove ho amici A Bordeaux Dove ho una cugina Sposata ad un armatore E A Parigi Qualche volta Ci sono stato un mese fa E dovrei Quando c'era anche La signorina Nau Può darsi Ma non ne so niente Indovini A cosa stavo pensando Ad Albert Retaiu Credo Non abbia avuto fortuna Quel ragazzo Mi sembra una frase Degna degli antichi oracoli Se per puro caso Non avessi trovato la prova Che quella notte Dormivo tranquillamente Lontano parecchi chilometri Da qui Ma Un momento Un momento Non capisco che cosa vuole dire Ah glielo spiego subito Tutti i miei amici Mi canzonano Per la mania che ho Di conservare Il più piccolo pezzo di carta Potrei ritrovare Un conto Della lavandaio Del droghiere Di sei o sette anni fa Oh per vacco Ebbene questa mattina Dopo che ci siamo separati All'osteria dei Tramul Sono ritornato a casa E mettendo in ordine Alcune carte Per pura combinazione Mi è capitata Sotto gli occhi Una fattura Dell'hotel de l'Europe Alla Roche-sur-Rion In quell'hotel Avevo pernottato Il 2 settembre scorso Proprio la notte In cui quel giovane è morto Il 2 settembre Naturalmente È una cosa Senza importanza Però mi sono ricordato Che la polizia Predilige gli alibi E l'ho conservato Per mostrarglielo Eh ma allora Lei non sa Che nel mondo Della polizia Un vecchio proverbio Dice che un individuo È tanto più sospetto Quanto più possiede L'alibi migliore Siamo arrivati Ah Quella è la sua casa Se questa specie Di interrogatorio È terminato Le chiederei scusa Ho fretta Di mettermi a letto Ma che dice Non c'è stato Nessun interrogatorio Solo una piacevolissima Conversazione Spero non le dispiacerà Se l'accompagno ancora Per qualche passo Per essere sincero Vado soggetto A dolorose nevragie Quando scende la nebbia E proprio in questo momento Ho una crisi in arrivo Ragione di più Per accompagnarla Fino all'interno Poi ci penserà La sua domestica A prestarle assistenza Vedo una luce A Pianterre È la domestica Appunto A domani commissario Se starò meglio Ci vedremo certamente Dai miei amici no Senta È stupido Lo so Scusi tanto Mi capita di avere Un bisogno urgente E dato che siamo a casa sua Tra uomini Ci si può permettere Vero? Allora Si accomodi pure Faccio strada Prego Venga avanti Le mostro Dov'è il bagno Guarda guarda L'ispettore Si è stanca Ma che cosa ci fa qui Mio vecchio e caro amico Dov'è la cameriera? E lei che cosa desidera? Il signor Gru Cotelli Immagino Le chiedo scusa Di scomodarla a quest'ora Avevo due parole Da rivolgerle La donna che mi ha aperto Mi ha detto Che non avrebbe tardato Molto a rincasare Ma bravo Come? Ho detto solo bravo E vuole insinuare? Vuole insinua niente Dov'è Cavre Questa cameriera Che l'ha introdotta qui? Non ci sono altre luci Accese in casa Dunque è andata a dormire Lasciandola qui da solo Quando sono arrivato Mi ha detto Le ripeto Bravo Bravo Vorrei mettersi a sedere Cavre Vedo Che si era messo Ben comodo Che cosa stava leggendo? Vediamo Vediamo Volutà Perverse Guarda un po' Proprio qui Nella biblioteca Del nostro amico Albà Ha trovato Questo bel libro Riccamente Illustrato Un raro esemplare Che farebbe gola A certi librai di Parigi Come quelli del Faubourg Saint Martin Ad esempio Che raccolgono Nei loro retrobottega Libri osceni Per venderli di nascosto Ma dite signori Perché restate in piedi La mia presenza vi disturba Non dimentichi La sua nevralgia Signor Grucotel Dovrebbe prendere subito Un'aspirina Credevo che lei Avesse un bisogno urgente Oh ben sì Mi è passato E allora Mio caro Cavre Vuol dirmi In che cosa consiste La sua inchiesta A Saint-Tobain Le deve aver fatto Un certo effetto Accorgersi che c'ero Anch'io Immischiato In questa faccenda Quale faccenda? E così E' stato E' stato il qui presente Signor Grucotel A fare appello A suo talento Che tra parentesi Sono ben lontano Da sottovalutare Non avevo mai sentito parlare Del signor Grucotel Prima di stamattina Ma allora E' stato Etienne A parlarle di lui Quando vi siete incontrati Non molte ore fa A Fonte Se deciderà di farmi subire Un interrogatorio Commissario Sarò pronto A rispondere A tutte le sue domande In presenza Di un legale Ah Per esempio Se fosse accusato Del furto Di un certo berretto Non capisco Che cosa vuole insinuare Mi dica Aveva degli affari importanti Da regolare stasera Col signor Grucotel Oh Se a proposito Del suo alibi Postore tranquillo Lo ha previsto tutto Ha conservato perfino Il conto Dell'Hotel de l'Europe Alla Roche-sur-Yon Signor Grucotel Si rende conto Di essere a casa sua Che cosa vuole dire? Che è padrone Di ricevere Chi le pare e piace Avrei desiderato Parlare con lei Ma non in presenza Del commissario Se preferisce La sua compagnia Alla mia Sono pronto ad andarmene Fissando un altro appuntamento In poche parole L'ispettore Cortesemente Le chiede Di mettere Uno di noi due Alla porta Signori Non capisco Che senso abbia Questa discussione Perché insomma Io non ho niente A che vedere Con questa faccenda Come sapete Ero la Roche Quando quel ragazzo è morto Certo Sono amico dei No Ho frequentato Ho frequentato molto La loro casa In un paese piccolo Come il nostro Non c'è molta scelta In fatto di amici Oh Pensi a San Pietro Che vuole dire? Che continuando così Avrà rinnegato Per tre volte E i suoi amici Che ce l'avessi con lei Con me? Je ne vive Una simpatica ragazza Che 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 È incinta Di tre mesi Che cosa? Ma che cosa dice? Non lo sapeva Signor Gru? Anche lei Desidera la verità No? Perciò cerchiamo insieme L'ispettore Cavra Ha già messo le mani Sul berretto Macchiato di sangue Che basta A provare Un delitto Dov'è finito Quel berretto Cavra? Preferisco avvertirla Che se l'ha distrutto Ne costerà molto caro Bene E adesso Tolgo il disturbo Vi lascio soli Immagino Signor Gru Che ci incontreremo Domani A colazione Dai suoi amici No Pronto? Sono il giudice Bregion Buongiorno Victor Chi parla? Victor Non mi riconosci Sono tuo cognato E ti è no Ah Come stai? Ci sono novità? Ecco Victor Non si può dire Che ci siano novità No D'altronde Ti scriverò Forse verrò a trovarti A Parigi Il commissario Maigret è arrivato bene? Che cosa ne pensi? È proprio A proposito del commissario Che ti telefono Non vuole occuparsi Della tua faccenda? No Se ne occupa troppo Senti Victor Devi Assolutamente Trovare il modo Di farlo tornare A Parigi Non posso dirti Non posso dirti niente Ora Ma ti assicuro Che è indispensabile Capisco Cioè Non capisco E non saprei come fare Credimi a Ma ma Non sei in buoni rapporti Col capo della polizia Sì Naturalmente potrei chiedere Al direttore della polizia giudiziaria Ma È una cosa delicata Prima o poi Maigret verrebbe a saperlo E sai Ha accettato di venire da te Soltanto per farmi Un favore personale Insomma Tu vuoi che tua nipote E tua figlioccia Abbia delle noie? Come noie? Credi che sia così grave? Ma se ti dico Vuoi farmi parlare con mia sorella? Lei cosa ne pensa? E Genevieve? Meno in fischio Di quello che pensano le donne È assolutamente necessario Che tu faccia partire da qui Il tuo commissario della malora Ma che cos'hai? Si può sapere? Cosa? Oh che se questa storia continua Tutto il paese Sarà in effervescenza Non si potrà più venirne fuori E la mia posizione Diventerà insostenibile Quel poliziotto Ficca il naso dappertutto E non dice una parola Calmati Proverò Quando? Domattina Vedrò il direttore Della polizia giudiziaria Appena aprono gli uffici Ma ti confesso Che questo modo di fare Non mi piace affatto In tutta la mia carriera Dittor Lo farai allora Se ti dico di sì Manda un telegramma Arriverà certamente in mattinata Così potrà prendere Il treno delle tre Sa che cosa si dice Signor commissario Che cosa ripetono tutti In paese Che lei parte domani Col treno delle tre Forse Mio dio Sì È probabile Che prenda il treno Domani pomeriggio Così loro L'hanno avuta vinta Si dice anche questo Di quell'altro poliziotto Quello che lei chiama Cadavre Raccontano che è venuto qui Chiamato dal signor No Ma c'è chi pensa Che sia venuto per il signor Grucotel E a proposito di Grucotel È stato sempre amico intimo De nous Beh Non sempre no La casa di Grucotel Appartiene da molto tempo Alla famiglia Ma quando io da bambino Andavo a giocare lì vicino Era disabitata Me lo ricordo Perché siamo entrati Molte volte in cantina Attraverso un finestrino Che non si chiudeva Il signor Alban Viveva allora In casa di parenti Che credo Avessero un castello In Bretagna Quando è tornato E ha preso possesso Della casa Era sposato Da poco tempo Allora io avevo Sei o sette anni Ricordo che sua moglie Aveva una piccola auto gialla La guidava personalmente E andava sempre In giro da sola La famiglia Frequentava in o? No Certamente no Lo dico perché ricordo Che il signor Grucotel Era sempre in casa Del vecchio dottore Che era vedovo Mi sembra ancora di vederli Vicino alla finestra Intenti a giocare a scacchi Se non sbaglio È a causa della moglie Che non vedeva i no Lui era andato a scuola Insieme al signor no Si salutavano per strada Li ho visti parlarsi Qualche volta sul marciapiede Ma niente di più Perciò È stato dopo Che la signora Grucotel Se n'è andata Che Sì Circa tre anni fa La signorina no Ricordo bene Aveva terminato il collegio È stata a lungo In collegio a Nior E la si vedeva soltanto Una domenica su quattro Me ne ricordo Anche perché Quando la si incontrava A parte le vacanze Si sapeva che era La terza domenica del mese Ed è stato proprio allora Che il signor Grucotel Ha cominciato a passare Metà delle sue giornate In casa dei no Non vanno anche In vacanza insieme Sì Alle Sable d'Olon I no hanno una villa Anche lì Era Era davvero furioso Chi? Il tuo amico Albert Mi avevi detto Che quando ti ha salutato L'ultima sera Ah sì Era sovraecitato Prima di andare all'appuntamento Aveva bevuto parecchi bicchieri Non ha detto niente? Aspetti Ah sì 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 Ha detto qualcosa Sì ecco Che certamente Non sarebbe rimasto a lungo Nel nostro sporco paese Ah Da quanto tempo Albert Era l'amante della signorina Lua? Non lo so di preciso Deve essere cominciato Verso la fine dell'anno scorso Non era innamorato prima? Non so Comunque Non ne parlava Forse temeva Che il padre È lui Vero? Chi? Il signor No È stato lui Ad uccidere Albert Non lo so E poi Potrebbe non avere Alcuna importanza Che cosa ha detto? Nessuna importanza Vedi Louis Anch'io Come te Vorrei che tutto fosse bello E pulito Sulla terra Anch'io Soffro E mi indigno Quando Commissario Non lascerà perdere Che cosa? Mi promette Di non partire Senza Averlo smascherato Te lo prometto I love you And I always will Bene Signor No Partirò domani Come lei desidera Ma perché Dice così Commissario Sa bene di essere Il benvenuto Qui La mia famiglia Io abbiamo per lei Ammirazione E simpatia Si è ingannato Sul mio conto Signor No Il giudice Brejot Mi aveva chiesto Per favore Di venirla ad aiutare In una faccenda delicata Ma ho subito capito Mi creda Che lei aveva male interpretato Il suo pensiero Che non era questo Il genere di aiuto Che si aspettava Da suo cognato A cui aveva scritto In un momento di smarrimento Per chiedergli consiglio Gli aveva solo accennato Alle voci che correvano In paese Senza dirgli ben inteso La verità Ma signor Commissario E lui Uomo di legge Coscienzioso E abitudinario Le ha mandato Un poliziotto Per tirarla fuori Dagli impicci Sarai ripartito Sin dal mio arrivo Mi creda Sin dai primi contatti Avuti insieme Se lei Non si fosse rivolto Precedentemente A Justin Cavra E se io Proprio Per la presenza Di costui Non mi fossi Incaponito Al gioco Naturalmente Dato che non sono In missione ufficiale Non devo rendere conto Di nulla a nessuno Non ha niente Da temere Da me Signor No E io posso Quindi tranquillamente Parlarle Ha vissuto Settimane D'incubo Non è vero E anche Sua moglie Che Sono sicuro È al corrente Di tutto Adesso Signor No Le rivelerò Il fondo Del mio pensiero E lei Comprenderà Perché Non sono partito Senza dir niente Cosa che sono stato Sul punto di fare Mi stia a sentire E non si affretti A interpretare male Le mie parole Ho la netta impressione Quasi la certezza Che per quanto colpevole Lei sia Della morte Di Albert Retaio Lei sia In paritempo Una vittima Dirò di più Seppure Ne è stato Lo strumento Non è Il vero Responsabile Della sua morte Bene 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 Ora Se vuole Mi racconterà Francamente I fatti D'altronde È appena necessario Almeno per i fatti Di quella sera Facili A ricostruire Quanto agli altri Non è la stessa cosa Che vuole dire? Lei non aveva alcun sospetto Sui rapporti esistenti Tra sua figlia E quel giovane? Ma signor commissario Io non lo conoscevo neppure Voglio dire Lo conoscevo di vista Ma Ma non avrei Mai saputo dare un nome Alla sua figura Mi chiedo ancora Dove Genevieve Abbia potuto incontrarlo Dunque Quella sera Lei signor Nuh Era andato a dormire Sì Anche sua moglie? Sì E guardi È ridicolo Avevamo mangiato Oca A cena A me piace molto L'oca Sebbene non la digerisca Facilmente Verso mezzanotte Mi sono alzato Per prendere Un po' di bicarbonato Lei conosce Presa poco La disposizione Dei locali Dopo la mia camera C'è lo spogliatoio Poi una camera Per gli ospiti Poi Una stanza Dove non entriamo mai Perché Lo so Lo so E infine viene La camera di mia figlia Che di conseguenza È isolata I due domestici Dormono al piano di sopra Ma all'altra ala Della casa Stavo dunque Nel mio spogliatoio Andavo a tastoni Nel buio Per non svegliare Mia moglie Ho sentito Un bisbiglio di voci Qualcuno litigava In casa Non immaginavo mai Potesse essere In camera di mia figlia Giunto nel corridoio Tuttavia Ho dovuto Arrendermi All'evidenza D'altronde Filtrava luce Dalla sua porta Riconobbi Una voce d'uomo Non so Cosa avrebbe fatto lei Al mio posto Signor commissario Qui A sento ben Siamo rimasti Molto l'antica Io sono forse Particolarmente ingenuo Genevieve Non ha ancora Vent'anni Ebbene Non mi era mai Venuto in testa Che potesse nascondere Qualcosa Sua madre A me Il pensiero Che un uomo No vede Ancora adesso Sono stato lì Per precipitarmi In camicia Anche in questo Sono l'antica Porto camicia da notte Invece di pigiami All'ultimo momento Mi sono reso conto Del ridicolo Del mio abbigliamento Sono rientrato Nello spogliatoio Sempre senza luce Mi sono vestito Mentre mi infilavo I talzoni Un altro rumore Mi ha colpito Fuori Questa volta Le persiane Dello spogliatoio Non erano chiuse Si erano aperte A causa del vento Ho spostato Le tendine C'era la luna E ho potuto vedere Una figura D'uomo Che dalla camera Di mia figlia Scendeva nel cortile Servendosi Di una scala a pioli Mi sono infilato Dio sa come Le scarpe Mi sono precipitato fuori Ho creduto Di sentire Ma non ero sicuro La voce Di mia moglie Che mi chiamava Etienne Etienne Dove sei? Non stai bene? Si fermi Chi era? Non mi riconosce Signor no? Cosa vuoi da me? Adesso è tutto finito L'ho mollata Quella sporcazione Di sua figlia Eravate tutti d'accordo Vero? Proprio una bella famiglia Di mezz'anni Io? Io? Non avvicinarti Ruffiero Con la migliore volontà del mondo Non saprei raccontarle esattamente Quello che avvenne Lui era più infuriato di me Ma più padrone di se stesso Mi ingiuriava Mi ingiuriava Ingiuriava mia figlia Scherniva me Mia moglie La mia casa Per mia figlia Ho usato le parole Più scene E non sono neppure capace Di ripeterle E allora Non so come L'ho raggiunto E ho cominciato a colpirlo Con che cosa? Con che cosa? Cioè Non so se ha notato La chiave del portoncino Che dà sul cortile È una chiave antica Enorme Un vero martello Io Io non Non giurerei Di averla presa Per distrazione Uscendo nel cortile Ma Ma neanche con premeditazione Perché non Non avevo in mente Di servirvene Per uccidere Continui Il ragazzo Con uno scatto improvviso Mi ha dato una testata Nello stomaco E per il dolore Provato Ho colpito più forte Lui è È caduto Allora io sono scappato via Per rientrare in casa Le giuro Che tutto questo È la verità La prima idea Fu quella Di telefonare subito Alla gendarmeria di Benet Poi Ho pensato Ho pensato Che se avessi detto La verità Cerchi di capirmi Sono ritornato Sui miei passi Era morto E L'ha trascinato Sulla strada Lontano da qui Sì Sì Da solo Sì E Quando È rientrato Mia moglie Stava in piedi Dietro la porta Che dà sulla strada Mi ha chiesto A voce bassa Che hai fatto Ho tentato di negare Ma aveva capito Mi guardavo Con un misto Di terrore E di pietà È stata poi lei Che mentre mi coricavo In preda alla febbre Ha verificato Uno per uno I miei abiti Per assicurarsi che Cioè capisco Lei non mi crederà Ma dopo Né mia moglie Né io Abbiamo avuto il coraggio Di parlare Di tutto questo Con nostra figlia Mai una parola Neppure una semplice allusione Questa forse È la cosa più allucinante La vita della casa Scorre come per il passato Eppure Siamo in tre A sapere E Alban Grucotel Non so come dire Da principio Non ho pensato A lui Poi Il giorno dopo Fui sorpreso Di non vederlo arrivare Al momento Di metterci a tavola Gli ho telefonato E la donna di servizio Mi ha risposto Che non era in casa Ma Avevo la certezza Di aver sentito La sua voce Nella stanza Quattro giorni dopo Quando lui ancora Non aveva messo piede qui Sono andato a trovarlo A casa sua Volevo conoscere La ragione Del suo silenzio Non avevo intenzione Di parlare Eppure Gli ho raccontato tutto Lui Mi ha riferito Quello che si diceva In paese Ero al corrente Perciò Dei primi sospetti Allora Un'idea La fissa Si è impadronita Di me E non mi ha più Lasciato Quella di Riscattare Il mio gesto Non sorridala Prego Ne ho visti Tanti Tanti altri Pronti a riscattare Le loro colpe Signor No Forse che gli altri Come lei dice Si sono comportati Così stupidamente Sono forse andati A trovare un bel giorno La madre Della loro vittima Come ho fatto io Si 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 Ci sono andato Di sera Tardi Dopo che Alban Si fu assicurato Che non c'era nessuno Sulla strada Non le ho confessato La verità Le ho detto solo Che le era capitato Una grande disgrazia Già vedova Adesso era Senza sostegno Avevo in tasca Venti biglietti Da mille franchi Divisi in due mazzi Non sapevo Come tirarli fuori Come posarli Sulla tavola Avevo vergogna Di me Avevo vergogna Di lei Tuttavia Riuscii A mettere Il denaro Sulla tavola Ogni anno Signora Mi farò Il dovere Di A meno che Non preferisca Che versino Una sola volta A suo nome Una sola Ecco Certamente Ho avuto Il torto Di non confessare Tutto Sin dall'inizio Dopo era Troppo tardi Nella mia casa Apparentemente Non era cambiato nulla Io non so Dove Genevieve Abbia trovato Il coraggio Di vivere Come se niente Fosse accaduto Quando ho capito Che alcuni In paese Mi sospettavano Quando Ho ricevuto Delle lettere Anonime E ho saputo Che ne avevano Mandate altre Alle autorità Comunali Stupidamente Ho scritto A mio cognato Immaginavo Vagamente Che i magistrati Avessero il potere Di soffocare Uno scandalo Come frequentemente Si sente dire Invece Ha mandato lei Qui Proprio quando Io avevo appena Scritto Un'agenzia privata Di Parigi Sì Sì commissario Ho fatto anche questo Ho scelto Un indirizzo A caso Nelle colonne Degli annunci Di un giornale Cover Investigazioni E io Che non mi sarei confidato Col fratello Della mia Louise Ho dovuto raccontare Tutto a uno sconosciuto Perché avevo Assoluto bisogno Di un suggerimento Ieri mattina Quando mio cognato Mi ha avvertito Del suo arrivo Ho telefonato subito All'agenzia cover Prendemmo appuntamento Per il giorno dopo A Fonteré Che altro vuole sapere Signor commissario Scommetto che Fra tutti i criminali Che lei ha conosciuto Non ce n'è uno Così Idiota Così maschino Mi chiedo Ma sì Che dopo tutto Potremmo telefonare Al suo amico Al Bangruch Hotel Non deve essersi Ancora colicato Se non è troppo stanco Signor No Penso faremmo meglio A finirla questa notte In modo che io Possa prendere Il primo treno domani Ma perché Perché forse Non è finita Permette Non si comodi Resti pure seduto Il numero di telefono Del suo amico Lo ricordo benissimo Pronto Signor gruppo hotel Ha riconosciuto la mia voce Come sta La sua nevrangia Bene Bene Sì Sono a casa del suo amico Sì Chiacchieriamo Com'è? Si direbbe che lei Abbia indovinato Ciò che stavo Per dirle Desidereremmo Che lei Facesse un salto Fin qui Ah no no Niente di particolare E sa Io parto domani Affari importanti Mi chiamano a Parigi Come dice? Dieci minuti? Oh È troppo Faccia più alla svelta A presto Grazie Verrà subito È molto preoccupato Lei non può immaginare In che stato L'abbia messo La mia telefonata Perché? Non ha ragioni Per Crede? Non le dispiace Se vado a prendere Una birra in cucina No Non sarebbe meglio Un bicchiere di Borgogna Io preferirei una birra Ma se non ne ha Si Ce ne deve essere in cantina Ne ordino sempre Qualche cassetta Ma poiché ne beviamo Raramente Non so Adesso vado a vedere Lasci Lasci stare Non si disturbi Va bene il Borgogna Allora Allora Chissà se il suo amico Alban verrà solo Che intende dire? Niente, niente Vorrei fare una scommessa Ecco, non c'è più tempo per la scommessa Che succede, Etienne? Sai, ho incontrato per strada il signore E mi sono permesso di condurlo con me Entri, Cavre L'aspettavo Dunque, abbiamo avuto il signor Noh e io Una lunga e cordiale conversazione Gli ho annunciato che ho deciso di rientrare domani a Parigi E che quindi era meglio dire la verità prima di lasciarci Ma perché sono assulta, signor Gru? Povero Cavre Le chiedo scusa per averla fatto uscire nel momento in cui stava per ritirarsi dal verbo La colpa è mia Sapevo benissimo, telefonando al signor Alban Ma anche non avrebbe avuto il coraggio di venire da solo Chissà perché lui ha sentito una minaccia Nel mio invito a venire qui per chiacchierare con noi Aveva un detective sotto mano E in mancanza di un avvocato si è portato dietro il detective Non è così, forse? Che c'entra il detective? Non sono stato io a farlo venire da Parigi Le l'ho già detto, mi pare Lo so, lo so Come non è stato lei ad accoppare lo sfortunato Rettaillot Perché si trovava, per caso, alla Rossignan Non è stato lei a lasciare sua moglie perché è la signora che se n'è andata Non è stato lei a... E dopo tutto, vede, lei è un essere, come dire, negativo Non ha mai fatto niente di sua iniziativa Ma che sta dicendo? Domani, dunque, parto come voi tutti desiderate E tra parentesi potrei rimproverare ad ognuno di voi Specialmente all'ispettore Cavre, che mi conosce Di non aver avuto più fiducia in me Sapevate, per dinci, come fossi qui soltanto un invitato Trattato quanto meglio può essere un invitato Mi si sarebbe potuto chiedere un consiglio, almeno E qual è, insomma, la situazione del signor No Ha compiuto un gesto sciagurato Lo confessa Ma chi se ne lamenta? Chi? La madre del ragazzo si dichiara Se si può dire così, soddisfatta Tutto si svolge tra gente per bene Tra persone educate Beh, occorre qualche voce, certo Si potevano temere due o tre testimonianze spiacevoli Ma la diplomazia del nostro gesto in Cavre Il denaro dei No E la tendenza ad alzare il gomito di certa brava gente Hanno scongiurato questo pericolo C'era il berretto Il famoso berretto Che d'altronde non costituirebbe una prova sufficiente Suppongo che si abbia avuto la prudenza a ridistruggerlo Non è vero, ispettore Cavre Io non... Ecco dunque A che punto saremmo Se non circolassero delle lettere anonime Ne hanno ricevute probabilmente anche il procuratore E i gendarmi Ci sarà forse una vera inchiesta Che cosa ha consigliato al suo cliente, Cavre? Non sono avvocato Oh, che modestia Se vuole sapere come la penso io Come la penso, eh Non che cosa consiglio Dato che neppure io sono avvocato Il signor No Tra qualche giorno Dovrebbe sentire il bisogno di viaggiare Con la sua famiglia Di allontanarsi, insomma, per qualche tempo Da tutta Lavandea Rimane L'amico Alban Che cosa contare fare, signor Alban Grucotel? Non è obbligato a rispondere E mi permette di aggiungere Niente ci obbliga a sopportare questo interrogatorio di nuovo genere Se conoscesse come me il commissario Megret Si renderebbe conto che in questo momento sta recitando Non so, signor No Se lei abbia confessato realmente Né in qual modo le siano state strappate confessioni Ciò di cui sono sicuro È che il mio anziano collega ha uno scopo Uno scopo che ancora non distingo con chiarezza Contro il quale, qualunque esso sia La metto in guardia Molto ben detto, Cavre Infatti perseguo uno scopo, sì E questo scopo lo confesso immediatamente Voglio provare come Etienne No Non sia il vero colpevole Mi dica, signor Alban Grucotel Preferisce confessare la verità O vuole piuttosto che sia io a dirla Prenda tempo per riflettere L'autorizzo volentieri a consultare il suo avvocato Voglio dire Justin Cavre Se volete, appartatevi pure per mettervi d'accordo Io non ho niente da dire E sarò dunque costretto a far conoscere al signor No Perché Albert Retaiot è stato ucciso Proprio così, per quanto strano possa sembrare Etienne No Che ha colpito e ucciso con le sue mani il giovane Retaiot Ignora assolutamente il perché Lei mente? Ma come può affermarlo Se ancora non ho detto nulla Porrò la domanda in un altro modo Ma sarà la stessa cosa Vuole rivelarci perché in un determinato giorno Ha improvvisamente sentito la necessità Di recarsi all'or Sirion E riportarne accuratamente il conto dell'hotel Che cosa vuole insinuare? Non c'è una parola di vero in ciò che sta dicendo Capito? Consulti pure il suo avvocato Non mi occorrono consigli Non so che cosa le abbiano potuto dire Né chi le abbia potuto raccontare storielle assurde Tuttavia voglio dichiarare anticipatamente Che è tutto falso E che se certi cervelli malati hanno potuto Lei è un essere ignobile, Grun Come? Dico che è un personaggio ignobile Perché è lei Il vero responsabile della morte di Albert Retaiot E se la giustizia degli uomini fosse perfetta L'ergastolo sarebbe troppo poco per lei Personalmente avrei tanto piacere Di accompagnarla ai piedi della chigliottina Signori Vi prendo come testimoni Non soltanto lei ha ucciso Retaiot Ma ha distrutto altre persone Io? Io? Lei è pazzo commissario Lei è pazzo da legare Dove sono quelle persone? Me lo dica per favore Su Me lo dica Subito Che aspettiamo signor commissario? Presto Presto Genevieve sta male E tieni Signor Begre Su si muova Oh Dio mio Vada su Genevieve Ma che è successo? Quanto a voi due Non dovete muovervi da qui per nessuna ragione Genevieve Ma che hai fatto? Le stai viene Ma cosa hai fatto? Guardate il tubetto di Verona al vuoto Mi aiuti signora Sì Portiamolo al bagno C'è acqua calda? Ma certo Ci vuole molta acqua calda E lei signor No Sì? Telefoni al dottore Sì Faccia presto Vada giù Sono calda E questo mi guia a salutare il suo amore Non c'è ma signora La presenza dell'edico è solo una precauzione Per fortuna siamo arrivati in tempo Mi dispiace E' colpa mia Non avevo immaginato che sua figlia potesse ascoltare E che reagisse così La prenda anche un paio di fazzolecchi Una servietta Uno straccio per un Sì Sì Certo E' stata Genevieve A incominciare Eh già E' stata lei senza dubbio Appena uscita dal collegio di Nior Appena diciottenne Ad esibire dei libri diciamo Come quelli che ho trovato nella sua biblioteca Signor Grocottel Io non gliene ho mai dati E non ne ha mai spiegato gli argomenti di certe incisioni erotiche Che ho intravisto sempre nella sua biblioteca Non sono il primo uovo della mia età ad avere per amante una ragazza Io non l'ho costretta Lei era innamorata E mi dica Fu sua O di Genevieve L'idea di reclutare Albert Retaio Se la ragazza si è presa anche un altro amante Questo non è affar mio Ha una bella faccia tosta davvero A rimproverare me Poco fa Davanti al mio amico No Come dice? Eh davanti al padre se preferisce Non ho osato rispondere E lei ha avuto la meglio Quando Genevieve Le annunciò di essere incinta Lei Gru fu preso dal panico Perché è un vigliacco È sempre stato un vigliacco La vita le fa così paura Che non osa vivere da solo E si aggrappa alla vita degli altri E dunque Bisognava attribuire quel bambino Ad uno sciocco qualsiasi Che se ne prendesse la paternità Di conseguenza Questo sciocco qualsiasi Non doveva far altro Che presentarsi davanti al padre Gettarsi in ginocchio Chiedere perdono Dichiararsi pronto a riparare Ma certo Sì Ci sarebbe stata anche la riparazione E lei Grucotel Lei avrebbe continuato Ad essere L'amante Vero? Quella sera Il povero Retaio Era puribondo Aveva bevuto parecchi bicchieri Prima di andare dalla ragazza E l'incontro col padre Aveva usato Riferendosi a Genevieve Parole oltraggiose Quindi sapeva tutto Come Aveva saputo Lo ignoro Preferisce che vada a chiederlo Alla ragazza? E va bene Glielo dirò Dopotutto cosa cambia Alberetaio Andava ogni mattina Alla posta A ritirare la corrispondenza Del suo ufficio Nel momento in cui Se ne faceva lo spoglio Passava dall'altra parte Del tramezzo E certe volte Aiutava a scegliere La corrispondenza Ha riconosciuto Su una busta A me indirizzata La calligrafia di Genevieve Che mi aveva scritto Perché da molti giorni Non riusciva a vedermi Da solo a solo Si è insospettito E si è messo Quella lettera in tasca Ah Capisco Penso che sia andata così Era logico Che Albert Fosse furioso Quella sera Quando stava per incontrare Per l'ultima volta La donna che si era preso gioco Di lui Come avrebbe potuto Non pensare Che tutti erano d'accordo Compresi i genitori Il padre Poteva far finta Di sorprenderli insieme Per costringerlo Al matrimonio Ma Lei Come ha saputo Che aveva intercettato La lettera Ero andato alla posta Per caso Un po' più tardi L'impiegato mi ha detto Ero certo Che ci fosse una lettera Per lei L'ho cercata inutilmente Allora ho telefonato Genevieve Ho chiesto anche All'altra impiegata Quella addetta Allo spoglio Della corrispondenza E quindi Ho capito Già Ha capito Che le cose Si mettevano male Che ne dice cavro Si si dottore Quando pensa Di ritornare a visitarla Domani mattinata sul tardi Verrò a controllare La pressione Nel frattempo La tenga a digiuno E la lasci tranquilla Si Buonanotte Buonanotte dottore Grazie Buonanotte Sembra Che ogni pericolo Sia stato scongiurato Dal suo rapido intervento Signor commissario La ringrazio Dal profondo del cuore Anche da parte Di mia moglie Bene E adesso Intanto Possiamo recuperare Questa bottiglia Di borgogna Vedo che è un po' Giù di corda Signor Ma si Certo Mi sembra proprio Una buona idea Sa Noi tre Il suo caro Amico Alban Rispettore Cavre E io Abbiamo chiacchierato Un po' Mentre lei era di sopra Alla salute Di sua figlia E alla fine Di tutti questi malintesi Malintesi? Credo Che il suo caro Amico Alban Abbia una rivelazione Importante Da farle Si figuri che Senza averne parlato A nessuno Ha fatto domanda Di divorzio Ah no Non capisco Cosa c'entra? C'entra C'entra Sì sì E ha pure altri progetti Forse tutto questo Non le darà Un piacere immenso Un vaso accomodato Non è mai Un vaso intatto Ma È un vaso lo stesso Già scusate Si è fatto tardi E io Casco dal sonno Non mi è stato detto Poco fa Che di mattina C'è un treno Per Parigi Alle sei e cinque Credo che io Partirò con quello Ma bene Cavre Faremo il viaggio insieme In attesa Vado a stendermi Per due o tre ore Sono sfinito Ha avuto altre notizie Della ragazza Prima di partire Genevieve sta bene A quell'età si supera facilmente Anche una forte intossicazione Lei sa certamente Cavre Che io Non l'ho mai potuta sopportare Fin dagli anni ormai lontani Del suo servizio Nella polizia giudiziaria Già Si tratta certamente Di una questione di simpatia O di antipatia Ma che dice Sì sì È proprio così E non posso farci niente Tuttavia Ne voglio confidare una cosa C'è un'espressione ricorrente Che mi sembra La più insulsa Di tutto il frasario universale Un'espressione Che mi fa sussultare Ogni volta che la sento Sa qual è? No Tutto Si accomoda Vede Mi stavo chiedendo A che servirebbe Fare imprigionare Tien Nu Ufficialmente Non vi sono prove Contro di lui Le poche testimonianze I pochi indizi Sono stati da lei Abilmente raggirati Ma commissario Cosa dice? Eh stia tranquillo Stia tranquillo Ci sarebbe vero La confessione Fatta a me In privato Però E Il caso potrebbe solo smuovere Un mucchio di fango Poi Geneviève Sarebbe infamata Davanti a un tribunale Eccetera Eccetera E quanto a quella canaglia Di Alban Grucotel Non verrebbe nemmeno disturbato E alla fine Si sarebbe felicemente liberato Delle sue responsabilità Sa che cosa penso Carlo Che forse fra un anno O anche meno Veremo a sapere Per caso Che Quella canaglia Avrà sposato Geneviève Di certo In un paese lontano In Sud America Per esempio Dove Papanno Avrà acquistato Una fastenda O avrà impiantato Un allevamento Di bovini O che so io Vedrà Vedrà Che tutto Si accomoda Abbiamo trasmesso Una missione ufficiosa Per il commissario Maigret Dal romanzo Maigret L'inspecteur Chia d'Avre Di Georges Simenon Traduzione E adattamento radiofonico In due parti Di Enrico Colosi Personaggi e interpreti Della seconda parte Il giudice Victor Brejon Diego Gaffuri Il commissario Maigret Adalberto Andreani Etienne No Umberto Ceriani Louise No Flavia Soleri Alban Grouquetel Antonio Zanoletti Geneviève No Paola Roscioli Louis Figu Flavio Arras Justin Chiavre Ernesto Rossi Albert Rettaio Francesco Orlando Un medico Mario Baio Presa del suono Alessandro Caroli Editing e sonorizzazione Massimo Scampicchio Regia Adalberto Andreani Raptor Santos Grazie a tutti.